Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla insieme Nello scorso episodio vi abbiamo fatto vedere che abbiamo creato di nuovo il mondo vecchio Però rifaremo tutto da capo e come vedete la prima costruzione già è bellissima Ciao bella faccia Buongiorno mio caro vicino Buongiorno vicino Come vedete abbiamo già fatto un albero bellissimo nel suo episodio Un sentiero e... è la casa? È la casa adesso un attimo abbiamo fatto l'albero però Però vedi? Allora ci siamo ripromessi di fare solo costruzioni assurde e bellissime Visto che ora siamo un pochettino più bravi a costruire E quindi bella faccia quest'oggi costruiremo la mia casa Basta dormire con i letti per terra che poi arrivano i mossi ci attaccano Oggi facciamo casa mia poi nel prossimo episodio facciamo la tua nel tuo E beh direi Allora io ho già un'idea te la devo... facciamo così vieni Vai Facciamo una connessione mente a mente guardami Di tutto di tutto Ti do l'idea tramite wireless Avvicina la fronte sulla mia Io... io... Vieni vieni guarda Ti vorrei dare una spadata nella testa però Guarda guarda Connettiamo le menti Hai capito cosa voglio fare? Sì sì Ok Quella cosa va bene Quella cosa lì Allora voglio fare una casa in legno E voglio farci anche la farm dentro Dentro la casa con del vetro Bellissimo Mamma mia sarà fantastico Qui ho chiuso un pochettino Perché faremo la rottura la teniamo però la dobbiamo sistemare un pochettino Bisogna trovare un qualcosa di bello da metterci qua Te l'ho già detto ci faremo la foschia ci faremo... sarà bello fidati Allora prendi il letto dove l'abbiamo messo il letto? Toglio io Tutte e due? Tieni Piazzalo perché si sta facendo notte Ok Dai 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 veloce Allora guarda ti dico intanto il mio piano La casa voglio che sia così tipo circa L'entrata L'entrata la facciamo qua Che tu entri così dalla porta Deve essere bella grande come casa Quindi non sarà piccolissima E qui invece ci voglio fare una specie di farm Tipo dove piantare il grano tutta coperta Sì bla 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 dai andiamo a dormire e cominciamo Vabbè però così almeno i fan ne capivano Vabbè come vuoi Non fare le puzzette eh mi raccomando Buonanotte Ecco perfetto Ma perché io mi ostino Con quella faccia da polo Io per ostino Sì dai Ma perché io che sono Allora i materiali li abbiamo Per fortuna siamo vicino a tante foreste bellissime Abbiamo tanta pietra Sai cosa dobbiamo fare però? La fauna e la flora Lo stone cutter Serve del ferro C'hai un ferro? Allora ho fatto lo stone cutter Sai cos'è lo stone cutter bella faccia? Allora finché non parli in italiano Io non ti rispondo Dai il taglia pietra Così verrà più facile fare le pietre lavorate no? Taglia pietra sì Ok allora facciamo tipo un po' di così Senti che rumore che fa Facciamo anche dei muretti Perché servono questi muretti sicuramente E allora Oh mio dio Ma è bellissimo di già Dillo Cosa devo dire? Dillo Allora lo facciamo alta Deve essere una bella casa Grande mi raccomando Niente di troppo piccolo Niente di minuscolo Dillo armadillo Aspetta Sai cosa? Mi sa che Aspetta devo fare un salto di parkour Ok Mi sa che devo un attimino allargare il terreno Sì 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 Perché qua non basta altrimenti Basta che non rompi niente Oh ma quanto è gigante? È più o meno alta così Poi da lì in poi ci facciamo il tetto a scendere Tanto ormai con i tetti siamo diventati bravi Io e te no? Io quando facevo i tetti Impresa idile Kendall è bella faccia Volete una casa? Chiamateci Chiamateci Al numero 800 900 000 500 800 Esiste veramente 00 No spero di no ragazzi Non chiamatelo perché metti che esiste veramente Pronto Chi c'è che ho? Gli arrivano 80.000 chiamati Ciao c'è Kendall Impresa idile chi? Allora Cosa stai facendo? Non fare domande Mi piace Mi piace Con il nuovo stile di costruzione che abbiamo Verrà fantastica questa casa Io allargo un pochettino qua Perché se no non basta secondo me lo spazio Non basta? Non basta E questa volta non farò una palafitta Perché tutti a dirmi sempre Kendall perché fai solo palafitte come case? Basta fare le palafitte Basta Basta Facciamo una casa rustica Medievale Bella Chiaramente perché non voglio fare delle case Ma perché rustica? Mi viene in mente tipo pizza rustica La pizza Eh lo so Anche a me Perché pensi sempre al mangiare Mamma mia Sai cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Delle slab qua Voglio fare un porticato con le slab Ah le stai già facendo? Sto già facendo piccolo amico Ma che pensi davvero che Ma io allora non faccio nulla Io sto qua e ti guardo No 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 Ti puoi vecchietti al cantiere No no Allora No allora A parte gli scherzi Questi qua come li potremmo utilizzare questi muri Ah le hai già usati No vabbè Seriamente cosa faccio io allora? Un fenomeno No ho un'idea Allora è la serra Io inizio ad allungare qua guarda Qua dobbiamo chiuderlo no? Io farei la serra fossi in te Faccio la serra? Eh se non non è facile Per fare la serra abbiamo bisogno di sabbia Hai sabbia? Per far la serra No ve la faccio non ho più la sabbia La devo andare a prendere Aspetta 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 Eh allora Secondo me me ne servono all'incirca una quarantina Oh 34 mi dispiace 34 vabbè dai buono Meglio di niente Mettiamo a cucinare tutto qua Così facciamo il vetro La voglio fare tutta quanta di vetro Così la luce del sole entrerà dentro Mi ha venuto un'idea Dove sei? Posso qui Vetro colorato Vetro colorato Eh però abbiamo solo il bianco Vabbè dai meglio di niente il bianco Vabbè poi la giorni Col bone meal funziona? Nei prossimi video in caso la puoi sempre aggiornare E' così che si fa il vetro colorato no? No Come si fa? Dammi No aspetta me lo devi spiegare Allora metti il bone meal Dammi le istruzioni Allora metti il bone meal Crafting table Ah il bone meal diventa colorante bianco Aspetta Perché sei così no? Perché io non l'ho mai fatto mi sa Ah avevi ragione Mamma mia ma quanto ne so Guarda Ma quanto ne so Ma senti basta vantarti per favore Ma quanto ne so I barili Come si fanno i barili? I burial Eh come? Vedi i burial Sai cosa fanno? Eh lo vuoi sapere Costano eh queste informazioni Allora Ti piace qua? Facciamo circa qua la voglio iniziare a fare Quindi tipo così E così più o meno Ma quanto è bella l'entrata? Poi la suddividiamo Veramente bella bravo Non ti sta piacendo? Se non ti piace puoi dirmelo chiaramente No no io non mi permetterei mai per la faccia Sia mai oh Sia mai Già mai Già Maria? Già Maria Già Nicola? No No Mi piace questo suono Suono proprio stupido Sai che questo suono Guarda tra un vetro e l'altro Facciamo così Lo facciamo tutto di tre Questo suono ce lo ritroveremo spesso Dici? E rottura di vetro Sì Ah sì purtroppo capita Mi servono delle scalette Non hai capito? Cosa? No 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 Non t'azzardare a rompermi il vetro E le finestre No io pensavo che intendessi Se sbagli lo rompi facilmente Il barile tizzuro Non mi ricordo Come si faceva Eh neanche io me lo ricordo più sai Aspetta adesso zio bella faccia Se pensi Allora tu non sei zio E che sono? Oh mi raccomando bella faccia Tutte cose simmetriche Non facciamo cretinate storte Guarda chi ha fatto i guarili Vuoi vedere? Belli Mettili tipo qua Mettili qua Tutti attorno Per Messico Bravissimo Magari un po' più storico Ah sta venendo bene questa casa Me piace Me piace Me piace un bel po' Allora Però dobbiamo mettere tridimensionalità Per ora è piatta Eh per ora è piatta infatti Eh scusami Guarda così Aggiungiamo un po' Di spessore Quindi sarà una casa Non troppo lunga Facciamo che la lunghezza All'incirca fino a Fino a qua La facciamo a due piani? Siamo a due piani? Facciamola a due piani Scale Sai che a me piacciono tantissimo Le scale a chiocciola Quindi Sei fissato Sono fissato Io praticamente Casa mia Quando comprerò casa Io la voglio con le scale a chiocciola Deve essere Obbligatorio Allora Eh non ho molta legna Mi sta per finire Tu ce l'hai vero? Sì Ne ho un sacco Guarda fuori Ti piace? Poi dobbiamo migliorare anche la vegetazione Tu hai un albero stupendo Che Modestamente ho fatto io Ho fatto io Sì Ma cosa l'hai fatto tu? Non l'hai fatto te Ho fatto io Fammi vedere Bello E qua Aspetta io ho il bombillo ancora Qua ci mettiamo dei fiori Qua guarda fiorellini così Eh però La faccia odia l'erba alta Io odio l'erba alta Però è bellino Ogni tanto ci sa Oh Già sta venendo benissimo Bello No? Carino Non credi? No no è bello Bello vero? Allora ho un'idea Qua la vetrata Ora la continuiamo tutta Qua ci serve dell'altra terra Perché voglio fare una vetrata tipo così Grande Fino a Direi fino Aspetta Fino a qui Fammi dare un'occhiata Perché non voglio sbagliare Così Così E poi devo fare questo Qua così Aspetta Così Com'è? Guarda Che dici? È qua quindi che ci chiude? Sì si chiude là Esatto Poi il vetro continuo qua così Ok mi serve più vetro Ho bisogno di sabbia Vicino noi abbiamo L'isola Dei fiori Quindi se abbiamo bisogno di colori Basta prenderli da là È vero Non ce l'ho pensato Vediamo Pensiamo delle cose che usiamo sempre nella casa Una cosa importantissima è il camino Quindi campfire Campfire Non ci vuole nulla Carbone Legna E l'abbiamo fatto Camino Poi le balle di fieno Come si fanno? Le balle che dice Gandalf Come si fa? Col fieno Col fieno sì Ok Allora per fortuna c'è tantissima sabbia qua Quindi non sarà un problema Ah e per chi ci ha chiesto Qual è il seed di questo mondo Io allora vi dico Dovete farlo in 1.5.2 E poi lo dovete convertire in 1.17 E il seed è questo qua Eh signor seed si sta facendo notte Vuoi andare a dormire? Inauguriamo la casa Anche se ancora non è finita Inauguriamo la casa Dai io ho già preso tanta sabbia Dovrebbe bastare per fare tutto quanto il vetro Vieni 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 qua dentro Spero Arrivo arrivo Inauguriamo la casa Guarda quanto è bella già I colori ragazzi No vabbè Veramente bella Guarda già col tuo albero tutto illuminato Il sentiero La casetta Stupendo Aspetta che faccio una cosa fantastica Allora il letto l'ho messo Comunque oggi sei servizievole È una rarità questa È perché non hai visto la TNT che tolto Eh sì Dai andiamo a dormire Buonanotte 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 Aspetta Aspetta lì Che stai facendo Non muoverti Bella faccia Non muoverti Sì sì Non muoverti Tanto ti sveglio Muoverti No 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 Sveglia Iniziamo male con gli scherzi Iniziamo male Sì infatti oggi sono troppo servizievole Oggi sei troppo buono Adesso incendi tutta la casa Ti stai comportando davvero amico Non come al solito Adesso incendi tutta la casa Adesso spaccati tutta Dai smettila Dai 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 Continuiamo a costruire Bella faccia Siamo orgogliosi Di presentare La nuova casa Di Kendall Guardate quanto è bella ragazzi Ah ma Che c'è? No pensavo che era la No vabbè avevo scritto Cosa avevi scritto? Casa di bella No no Questa è casa mia No ma era la mia No No abiti l'albero No scusa ma io pensavo Ah è per questo che ti stavi comportando così bene Che la stavi costruendo Ma dai ma allora Ma no questa è casa mia Bella faccia Vi dispiace Comunque io finalmente ho un tetto sotto una testa Quindi a riderci Buonanotte Bello dormire in un bel letto grande Comodo Ehi Ehi Non è tutto tuo Allora ovviamente dentro ancora la dobbiamo sistemare Cioè abbiamo fatto soltanto il fuori Abbiamo fatto qua un piccolo orticello È piccolina eh Non ho dimenticato il vetro qua Vabbè comunque Ci sono ancora delle modifiche da fare Però avete capito più o meno come verrà fuori E devo dire Mi piace veramente tanto Però mettiamolo Quanto è bella È bella è bella Dopodiché faremo degli altri alberi Ragazzi Come proprio come quello di Bella Faccia Un sentiero più bello Un ponte Tante cose fantastiche Magari è anche la mia casa Perché non è che posso vivere sotto un altro Quella la facciamo nel tuo video Quindi vi raccomando ragazzi Lasciate tanti mi piace Per questo video E per il ritorno della vanilla insieme 3 Punto Non era la 15.9 No questa era la 3.0 Ma Allora Ciao 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 Ciao